Il 19 giugno prossimo scadranno i termini per la calendarizzazione in Commissione Regionale Salute della discussione sulla proposta di legge di iniziativa popolare in materia di fine vita. All'approssimarsi di questa data, Liberi Subito Abruzzo, ossia il comitato che aveva seguito la raccolta firme per presentare la proposta normativa, ha inviato una lettera al presidente del Consiglio regionale abruzzese, Lorenzo Sospiri, affinché la situazione si possa sbloccare. I faldoni con le oltre 8.000 firme raccolte in tutta la regione Abruzzo erano stati consegnati a giugno dello scorso anno negli uffici regionali aquilani di Palazzo Emiciclo. Si era poi messa in moto la macchina burocratica post-deposito che però ha subito un rallentamento. Tra i motivi che hanno determinato questa situazione, dapprima la discussione sulla legge di bilancio a fine 2023 e poi le elezioni regionali di marzo di quest'anno. Comprendiamo le ragioni della mancata discussione, scrive ora Liberi Subito Abruzzo in una nota, ma adesso che il Consiglio si è insediato e le commissioni sono costituite, auspichiamo che il presidente Sospiri e la commissione competente calendarizzino il prima possibile la discussione.